Lunedì Juventus-Lazio, ma i nemici della capolista hanno cambiato colore. Ora sono nerazzurri. L'Inter con la vittoria di Ferrara è seconda a meno 6 e giocherà sul campo della Roma. L'Atalanta a meno 7 con i suoi 93 gol, le 12 vittorie e due pareggi in 14 giornate ha un'andatura del record. La Juve ha fatto solo due punti in tre gare subendo nove gol, ma il calendario è a suo favore. In Verona l'Atalanta è risultato pesante quindi, mentre il Napoli affronterà l'Udinese. Sono Gasperini, De Zerbi e Pioli i personaggi del momento. Hanno fatto meglio di tutti nel calcio senza pubblico. In zona salvezza bene il Toro, decisiva sarà Genoa-Lecce. Ritmi infernali e polemiche il solito piccante menù.